Big Mat è di il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com L'ufficio SRL Buffetti. Tutto per la scuola e l'ufficio. Rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed. È semplice, comodo e veloce. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. Parlando sempre di super bonus, un altro aspetto molto importante dopo la verifica della conformità edilizia è lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato dal quale si evince se il vostro immobile rientra o no nei benefici fiscali del super bonus 110%. Dentro lo studio di fattibilità deve essere presente la dimostrazione che con l'esecuzione dei lavori si riesca o no ad avere il famoso salto di due classi energetiche. Questo è un aspetto fondamentale per accedere al contributo del super bonus 110%. Nel caso in cui si evinca che il vostro immobile dallo studio di fattibilità non rientri nei benefici fiscali del 110% sappiate che ci sono molti altri bonus fiscali che vi permetteranno di migliorare il vostro immobile. Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Acqua di fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com L'ufficio SRL Buffetti. Tutto per la scuola e l'ufficio. Rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed. È semplice, comodo e veloce.